Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza Crisi. La frecciatina dell'ex dama all'arma i fan. Ida Platano e Alessandro Vicinanza starebbero già in crisi. Dopo mesi di amore e di idillio sembra che tra i due ultimamente le cose non stiano andando molto bene. I primi indizi arrivano dai social dove Ida, sempre molto attiva, ha iniziato a pubblicare molto meno e sempre più da sola. Ilari Blasi cancella Totti, sparite tutte le foto insieme dal profilo Instagram. Nel suo cuore c'è solo Bastian. Giulia Delellis e Andrea Damante sono amanti. Ortiz svela in retroscena, li ho visti alla festa. Ma pare che la ex dama di uomini e donne abbia lanciato anche dei messaggi sospetti. Il più significativo è quello nelle sue storie di Instagram dove ha scritto, deludiamoci con rispetto. Su sfondo nero. Non ci sono altre informazioni ma sembra evidente che Ida si sia sentita delusa. Pur non specificando da chi. I followers hanno subito pensato al suo compagno. Che però dal canto suo non ha ancora detto nulla a riguardo. Il pubblico non manca di ricordare però quello che aveva detto Tina Cipollari in merito alla loro relazione. L'opinionista, a cui non è mai stata molto simpatica la Platano, aveva anticipato che Ida non era affatto coinvolta. Che la sua era una storia costruita per avere consensi e che non sarebbero andati lontano. I più maligni stanno addirittura insinunando che sia tutta una trovata per poter partecipare a Temptation Island. Programma che la vide già protagonista insieme al suo ex. Non resta che aspettare e vedere cosa accadrà. Non è buon, ma gandesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine. Fii egoista, liniștit ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Totto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swap ou. Grasul nimeni altul, hotel, vedeți sau carbo. Tre' să vă mănânci verzi cu verzi card intens. Tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu boss-ul.